5 serie tv erotiche da vedere su Netflix che nessuno consiglia mai. Ciao, sono Valerio Novara. Oggi parliamo di serie tv Netflix che esplorano il sesso e il tradimento. Ho cercato di metterne insieme 5 per tutti i gusti. Ma andiamo subito al sodo. La prima serie che vi consiglio oggi è Sex Life, un titolo che racchiude già di per sé l'intera trama, ovvero la scelta tra avere un matrimonio perfetto o una vita sessuale appagante. È tratta dal romanzo 44, capitoli su quattro uomini, e parla di una mamma che apparentemente ha una vita perfetta e felice e del suo ex fidanzato, con il quale si frequentava anni prima, a completare questo triangolo amoroso, il marito della donna. La storia parla di questa mamma che apparentemente ha tutto quello che una donna possa desiderare, una famiglia, un marito premuroso, dei figli, una casa bellissima, ma a un certo punto si scopre che non è appagata dal punto di vista sessuale con il marito, sotto le lenzuola non è così soddisfatta come potrebbe essere. E a un certo punto questo ex fidanzato, con il quale invece aveva avuto delle bellissime esperienze, anche sessuali e trasgressive in passato, ricompare, ripiomba nella sua vita. Lui fa produttore cinematografico, un uomo affascinante, e la vita di lei si scombussola. Lei decide di scrivere su un diario e ripercorrere, insomma, le esperienze anche sessuali, anche e soprattutto sessuali con l'ex fidanzato, su questo diario. Il problema è che il marito verrà a sapere, a scoprire, a leggere quello che c'è scritto nel diario, e la loro vita, questa vita di coppia apparentemente perfetta, questa famiglia del mulino bianco scoppia. E ci saranno un sacco di vicissitudini e problemi tra di loro, anche perché, insomma, è una serie in cui non mancano i colpi di scena. Ed è una serie molto trasgressiva e molto spinta, anche dal punto di vista di alcune scene. Su Netflix trovate le prime due stagioni. Il secondo titolo che vi consiglio oggi è Ossessione. Ne avevo già parlato in un video precedente, avevo fatto la recessione, avevo spiegato un po' il finale. Ossessione, una miniserie in quattro episodi che esplora il tradimento. Parla di una ragazza che si imbaglisce del padre del fidanzato e diventa quasi un'ossessione per lei, comincia a stalkerarlo quest'uomo, e è ricambiata da questo padre, da questo suocero, e da lì, insomma, scatteranno una serie di eventi con degli avvenimenti assurdi. L'ho trovata sconvolgente in alcune parti, anche perché ti porta in quattro puntate ad un colpo di scena incredibile nel finale. Ossessione, quattro puntate su Netflix. Le puntate sono brevi, durano mezz'ora, 40 minuti, quindi si vede facilmente anche in una sola serata. Super consigliata. La terza serie che vi consiglio oggi è Fedeltà, una serie italiana che era uscita su Netflix un po' di tempo fa e di cui avevo anche parlato in un video precedente dicendo un po' quali fossero le novità, perché è una bella serie che mi ha appassionato. La protagonista è Lucrezia Guidone, che abbiamo visto anche in Mare fuori 3. Parla di una coppia di Milano che a 40 anni, insomma, capisce che ha bisogno anche di altri stimoli, anche perché Fedeltà racchiude tutta la trama. Lui si imbagnisce, lui è un insegnante, si imbagnisce di una sua allieva, molto più giovane di lui, e lei invece poi decide di vendicarsi, tra virgolette, con il fisioterapista. È una serie che esplora la vita di coppia e che ci porta ad un finale ricco di riflessioni, soprattutto per due persone che stanno insieme. Per i single sarà una piacevole scoperta, per le persone, insomma, fidanzate o sposate, ci saranno dei bei discorsi da mettere in piedi. Ve la consiglio su Netflix, Fedeltà. Quarta serie che vi consiglio oggi è Wonderlast, ed è uscita davvero di recente su Netflix. Sono sei puntate, una coppia che a un certo punto decide di diventare una coppia aperta. Lei fa la psicoterapeuta di coppia, tra l'altro, e è una bravissima Toni Collette, e propone al marito di vedere altre persone, anche singolarmente. È molto divertente la scena in cui i due lo dicono ai figli, che sono dei millennials, insomma, sono dei ragazzi, dicono di questa loro scelta, di voler diventare una coppia aperta, e vedere altri partner. Lo dicono ai figli, le facce sono tutto un programma. Il problema è che questi rapporti con altre persone avranno delle conseguenze sia dal punto di vista di ciò che pensano le persone che sono intorno a questa coppia, dai conoscenti ai parenti, ma soprattutto ai figli. E i partner stessi, che i due sceglieranno, spesso non vorranno essere solo un diversivo, ma qualcosa di più. Super consigliata Wonderlast, molto divertente, la trovate su Netflix in sei episodi. Ultima serie che vi consiglio, si intitola Oscuro Desiderio, è una serie messicana, su Netflix ci sono le prime due stagioni. Parla di questa professoressa universitaria che esce con una sua amica, deve rincuorarla perché sta elaborando il recente divorzio, solo che incontra un ragazzo 23enne, molto più giovane di lei, con cui ha una relazione, una sbeltina, se vogliamo, una relazione di sesso che, in teoria, sarebbe finita lì per lei. Quando torna a casa dal marito e dalla figlia, lei pensa di essersi lasciata tutto alle spalle, invece questo ragazzo, questo ragazzino di 23 anni, comincia ad avere un'ossessione verso di lei e comincia a crearle non pochi problemi all'interno della famiglia e della sua vita lavorativa. Tra l'altro verrà messa in mezzo a questa storia e a questa relazione di sesso anche la figlia della protagonista. Ed è una serie che mi ha davvero stupito per come la trama è intrecciata e per come coinvolge tutti i personaggi in questa storia erotica. Fatemi sapere se le avete viste tutte e cinque e se le vedrete cosa ne pensate. Vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube Ciaccheazione e ditemi se ne avete altre da consigliare ai ragazzi che ci seguono, sempre del genere erotico e sempre su Netflix. Seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni pubblichiamo news, raccontiamo storie e novità che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video! Grazie!